Allora, viva di guardare un film o no? Mi dispiace, domani si lavora. Devi tornare nella tua caverna. Cosa? Sono le tre del pomeriggio! Sai come sei quando sei stanco, andiamo. Io sono normalissimo. Siete troppo non fichi. Sì, sì, lo sappiamo. Dove vai, scusa? Devo tornare nella mia caverna. Esatto. Oh, ma state scherzando? Non ci credo. Come avete... C'è... C'è tutto. Guarda qua, davvero! La poltrona a sacco? Non ci credo! Come avete portato tutto! Oh, ah, ah, ah! Che bello, che bello, che bello, che bello! Beh, benvenuto a casa. Grazie. Tantissimo. Oh no, non esiste. Nessun secondo migliore amico animale può stare in camera mia. Aspetta, che fai? Sta lontano. Smettila! Ti avverto in un ciacu! Ok, fermo! Va bene, puoi restare! Ah, ah, ah! La mia sanità mentale rimane assoluta. Dico bene, agente roccia. Perché non prova ad andare in testa? Ah! Così fa roccia ogniizione! Ah, 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 ah! Roccia ogniizione! Vassù! Fa ridere! Che cosa vuoi, tu? Questa è la situazione. Pianeta disabitato. Nessuna risorsa, nessuna risorsa, niente scorte, niente via di ritorno, pare. Un uomo da poco morirebbe qui. Io sarò a casa per Natale. toscecom Vassù! 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 Grazie a tutti.